L'acetaminofen è considerato un dolore vecchio, ma, ancora, in diverse terapeutiche, questo dolore è ancora usato. Per esempio, è una dolore referenza per i pediatri, ma anche per gli adulti. È usato in grado di trattamento del dolore. È sorprendente di realizzare che la maggior parte dei meccanismi dell'acetaminofen non è completamente capace. Probabilmente questa idea che la maggior parte dei effetti sono relati all'inhibizione del COX-2, la cyclooxygenase 2, probabilmente dovrebbe essere modificata. Se consideriamo l'analgesia, se consideriamo l'aspetto farmacodinamico dell'acetaminofen in analgesia, è chiaro che, prima di tutto, l'inhibizione potenza dell'acetaminofen in COX-2 è molto, molto piccolo. E nella periferia, dove abbiamo tessi inflame, la condizione ambientale, il potenziale di radossi, è in una forma che probabilmente l'enzyme non può essere inhibito dall'acetaminofen. Quindi, per l'analgesia, la maggior parte dei effetti devono essere investigati nei cordi spinali, nei sinapsi tra il nociceptore e il neurone spinotalame, dove probabilmente l'acetaminofen ha avuto un ruolo relevante in modulare l'attività dei sinapsi. In questo caso è credito che un effetto inibito sul COX-2 è responsabile per la maggior parte dell'attività dell'acetaminofen. ma negli ultimi anni, una nuova ipotesi erogna da diversi studi. Per esempio, è stato dimostrato che un metabolite dell'acetaminofen, che si chiama AM404, è capace di inibire l'inhibito dell'anandamide. L'anandamide è uno dei più endocannabinoidi, quindi un mediatore che funziona sul sistema cannabinoide e funziona un ruolo nell'analgesia. Quindi un'idea è che l'acetaminofen potrebbe interferire con il tono cannabinoide e in questo modo interferire con il dolore. Quindi non è striccolato con l'inhibito dell'acycloxigenase-2. Considerando l'effetto antipyretico, è well known che questi effetti sono principalmente in l'hypothalamus e in l'ipothalamus è credito che l'acetaminofen sia il principale target dell'acetaminofen. Inoltre, se consideriamo l'efficacia dell'equilibrio dell'equilibrio dell'ibuprofen e dell'acetaminofen e dell'acetaminofen ci rispondiamo che i due druggi sono equivalenti ma la capacità dell'ibuprofen di inhibire il COX-2 è molto più alta che l'acetaminofen quindi non possiamo esprimere l'attività antipyretica dell'acetaminofen solo considerando l'attività dell'acetaminofen quindi altre ipotesi sono proposte per esempio sicuramente indipendente del COX-2 il ruolo dell'opio endogenese il ruolo del cannabinoide dell'endotelina e così via ma abbiamo considerato che anche l'effetto antipyretico probabilmente il COX-2 non è l'unico modo per esprimere l'efficacia dell'acetaminofen finalmente considerando la farmacokinettica è chiaro che c'è un delay tra la so-called C-Max la concentrazione del drug e l'effetto antipyretico dell'acetaminofen questo perché l'acetaminofen deve rinforzare il so-called l'affetto 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 il sistema nervoso quindi c'è un delay in questo passaggio ma questo delay potrebbe essere veramente detrimente perché questo significa che abbiamo un delay nell'affetto antipyretico e analgesico la legge c'è un tussen l'affetto 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 manipulare la concentrazione, la dosaggio che usano della droga per raggiungere in un momento riuscito l'affecto del compartimento e ottenere effetti terapeutici prima. È creduto che in bambini una dose di 15 mg per kg sia una buona dosaggio per avere una risposta rapida senza aumentare troppo la dosaggio di acetaminofeno.